Buongiorno a tutti e benvenuti alla trentunesima lezione della nostra storia romana che sarà dedicata alla transizione fra la fine della dinastia Giulio-Claudio, vale a dire ciò che accade nell'anno nel bienio, potremmo dire, fra la morte di Nerone che avviene nel 68, nell'estate del 68 e la fine del 69 e dopo questo Longus et Unus Annus, come viene definito da Tacito, l'inizio della dinastica Flavia con Tito Flavio Vespasiano che sarà imperatore fra il 69 e il 79. Ma veniamo prima di tutto a questo anno, questo bienio fra il 68 e il 69 in cui si ritorna a Roma in un clima di guerre civili. La definizione di questo bienio come di un unico e lungo anno, Longus et Unus Annus, appartiene al primo libro delle storie di Tacito che diventano la fonte di ciò che accade da qui in avanti mentre precedentemente, vale a dire per la dinastia Giulio-Claudia, l'opera di Tacito di riferimento erano invece gli annales. Il senso profondo di questo bienio per Tacito cos'era stato? Era stato il manifestarsi di un arcanum imperi, cioè di un segreto del potere, vale a dire il fatto che l'imperatore poteva essere proclamato anche lontano da Roma e che l'esercito diventava, insieme al Senato e alla Guardia Pretoriana, protagonista nella scelta del principe. L'esercito, vale a dire le legioni stanziate soprattutto nelle zone di confine dell'impero, fino a questo momento non avevano giocato un ruolo significativo per quanto riguarda la nomina dell'imperatore. Avevamo visto alcuni casi di mal di pancia delle legioni in occasione di transizioni fra un imperatore e l'altro, però mai un ruolo di primo piano. E se da un lato il Senato manteneva la sua funzione di nucleo della continuità del potere, così come era già in origine all'epoca della monarchia romulea, rimaneva quindi l'organo che emanava la sanzione formale delle elezioni imperiali, cioè era colui che sanciva la nomina imperiale, Tuttavia, dall'altra parte, il Senato non era più sufficiente per plasmare l'autorità di un principe, l'autoritas. Poteva, mettiamola così, sanzionarne ufficialmente la potestas, ma non poteva attribuire la sufficiente autoritas per comandare. E alla morte di Nerone, già precedentemente, anzi alla morte di Nerone, il 65enne governatore della Spagna, Servio Sunticio Galba, che era espressione della nobiltà senatoria, si era schierato all'inizio del 68, fra l'inizio della primavera del 68, potremmo dire, a favore della ribellione gallica di Giulio Vindice. E dopo il suicidio di Nerone, il 9 giugno del 68, aveva ricevuto Galba l'investitura a Cesare Augusto da parte del Senato. Galba è appunto espressione della novità senatoriale, quindi riceve dal Senato la nomina a imperatore. A questo punto dalla Spagna, raccolta le sue truppe, marciò su Roma, dove giunse nell'ottobre del 68. Il governo di Galba fu tuttavia estremamente breve, perché egli si rese in viso alla plebe, ai pretoriani e anche allo stesso esercito, mantenendosi fedele al tradizionale ruolo di gestione del potere da parte dell'ordine senatorio, quindi potremmo dire una sorta di miopia politica di Galba. Si rifiutò infatti di concedere premi e aumenti di salario all'esercito, attuando al contrario una politica di strette economie che era completamente agli antipodi rispetto a quella politica demagogica e populista che avevamo visto essere caratteristica del governo di Nerone. Galba era un campione della Libertas Senatoria e per affermarla aveva immediatamente accantonato il principio dinastico, adottando e associandosi al governo Lucio Calpugno, Pisone, Fruggi, Liciniano, anche gli appartenenti ad una delle più antiche famiglie di Roma. Quando Galba poi ordinò che coloro che avevano avuto doni o pensioni da Nerone restituissero addirittura i nove decimi di ciò che avevano ricevuto al tesoro, il malcontento si trasformò in aperta ostidità. La guardia pretoriana, che contro Galba riaffermava il suo schieramento antisenatoriale, perché ricordiamo che la guardia pretoriana era espressione dell'ordine equestre, di conseguenza naturalmente in rivalità con l'altra parte dell'elite della società romana che era appunto la nobiltà senatoria. E la guardia pretoriana si schierò a favore di un senatore in disgrazia, ex marito della poppea di Nerone, che era legato in Lusitania, quindi legato in Portogallo, e sostenitore della prima ora di Galba, da cui sperava di farsi adottare come successore. E stiamo parlando di Giulio Otone. E infatti il 15 gennaio del 69 i pretoriani marciarono nel foro di Roma, dove incontrarono la lettiga casualmente che stava trasportando Galba, il quale, compreso ormai il suo destino, cioè il fatto che il suo potere era raggiunto al termine, offrì semplicemente la testa alle spade della milizia pretoriana e gli venne mozzata, venne mozzata non solo la testa ma anche le labbra e le braccia che vennero consegnate a Otone, che venne immediatamente accettato dal senato come nuovo imperatore. Quindi vedete, siamo in un periodo di subugni in cui il senato si era scelto il suo campione che era appunto Galba. La guardia pretoriana ha fatto altrettanto, questo è il problema di auctoritas, cioè manca quella figura che è in grado di coagulare intorno a sé il consenso di tutti gli ordini. Otone doveva essere quindi il sostenitore dell'ordine equestre, contro il prevalere della nobiltà senatoria. E in questo senso si inserisce la sua riforma della burocrazia imperiale, che era normalmente affidata ai liberti, come abbiamo visto dall'epoca di Claudio, che avrebbe invece accolto nell'ufficio Abe Pistulis, quello della corrispondenza ufficiale della corte imperiale, membri appunto dell'ordine equestre. Quindi si trattava di concedere un nuovo canale per raggiungere i vertici del potere a quest'ordine. Però le legioni di stanza sul re, così come non avevano amato la nomina di Galba, furono altrettanto contrarie a quella di Otone, che rappresentava ai loro occhi il campione delle corti pretorie di Roma, che e quindi anche qua dobbiamo capire la rivalità fra questi due rami delle forze armate dell'impero romano, vale a dire quel gruppo privilegiato che era stato creato da Augusto e che quindi orbitava direttamente intorno alla figura dell'imperatore, che era la guardia pretoriana e invece i legionari, che potremmo dire erano più espressione della volontà dei ceti più bassi, del popolo, perché erano loro che andavano a combattere ed erano stanziati lungo i confini dell'impero. Anche in questo caso qua potremmo interpretare questi conflitti come una sorta di conflitto sociale, cioè il popolo che di fatto con il passaggio dalla Repubblica all'impero aveva perduto la sua facoltà, le sue prerogative pratiche proprio di gestione del potere, parliamo delle elezioni delle varie magistrature, che però ormai erano solo più degli involucri formali, non esercitavano più un potere effettivo, ecco che il popolo trova quest'altro canale, che è il canale dell'esercito, dei legionari, delle legioni, che possono dire la loro non più. Quindi con l'assemblee, ma è tutto stato quindi, si sposta tutto nel settore militare, ma possono dire la loro. E sempre a inizio del gennaio del 69, quindi quando Otone, praticamente dopo aver fatto fuori Galba, riceve la nomina imperiale, ecco che le regioni di distanza sul re non nominano un altro imperatore e nominano il loro legato Aulo Viteglio. Con la morte di Galba, quindi Otone e Viteglio, l'uno appoggiato dal senato e dai pretoriali, senato orfano di Galba, quindi si sposta ad appoggiare Otone, e l'altro invece, Viteglio appoggiato dall'esercito, si scontrarono per il potere. Viteglio, da nord, invase l'Italia, mentre Otone, da Roma, marciò verso nord per fargli si incontro nella pianura padana con Otone. Erano presenti dodici corti pretorie, la legione prima Auditrix, il, come lo definisce Tacito, il deforme ausilium, cioè il supporto deforme, quindi non naturale, ed è che era composto da duemila gladiatori, che quindi poco avevano a che fare con l'esercito ufficiale. A queste truppe poi si aggiunsero, benché Tacito sia piuttosto scuro, su questo punto anche tre legioni danubiane, quindi sarebbe riduttivo dire Otone, appoggiato da guardia pretoriane, quindi combattono con lui solamente le corti pretorie, perché si trattava comunque di un consenso che era, potremmo dire, interclassista, nel senso che prendeva anche parte dell'esercito ufficiale, così come dall'altra parte prendeva i gladiatori, che con l'esercito non c'entravano assolutamente nulla. e la battaglia fra i due avvenne nei pressi di Bedriacum, vicino a Cremona, in quella che è conosciuta come la prima battaglia di Bedriaco, del 14 di aprile del 69. Otone, in questo caso, fu sconfitto in una delle battaglie più sanguinose dell'antiquità. Secondo Tacito, più che l'inferiorità numerica, che non era stata così alta, la differenza contro Otone venne fatta dall'abilità tattica dei generali di Viteglio, che evidentemente più di quelli della guardia pretoriana erano abituati a manovre belliche su larga scala, mentre quelli di Otone, in Cetacito, si distinsero per alcuni errori tattici decisivi. Però, essendo quindi la vittoria dell'esercito del Reno, su quello dell'Italia, molte interpretazioni storiografiche hanno fornito così una chiave di lettura di questo scontro come di una migrazione del potere dall'Italia verso le province. Cioè a dire, guardate, da questo momento, visto che le legioni del nord dell'impero sconfiggono le forze armate italiane, di fatto è un segno che il potere è migrato. Quindi, così come già avevamo visto con Claudio la provincializzazione del Senato, la rappresentatività del Senato, che non era più solamente dei senatori italiani, e così via, ecco qua un altro sintomo di questo processo di lungo periodo che ci dice che il centro del potere progressivamente non sarà più in Italia. Tuttavia, nel suo lavoro storiografico sull'impero romano, Santo Mazzarino, ha invece sottolineato come all'epoca tanto le legioni di stanza in Germania quanto i pretoriani e venissero comunque reclutati fra la popolazione italiana. Rimarrebbe pertanto valida l'etichetta già da tacito di una battaglia di fratelli contro fratelli, di figli contro i padri. E sempre Mazzarino sottolinea come lo scontro tra gli italiani e ottoniani rispecchiasse invece più un turbamento tra le varie forze essenziali dello Stato romano, che è quello che è poi potremmo dire la interpretazione storiografica più convincente del bienio del longus et unus annus, cioè in cui queste parti così che Mazzarino definisce essenziali dell'impero romano, l'esercito, i pretoriani e il senato non sono più in equilibrio, mi manca il cardino della figura imperiale attorno alla quale essi gravitavano, non trovavano il modo di una sostanziale convivenza delle varie parti, ecco che manca e quindi si sta cercando da una fase di turbamento di arrivare a una fase di nuovo equilibrio. E la lotta politica si configurava quindi come un ritorno in pratica alle guerre civili di epoca repubblicana, perché è quello che già avevamo visto in quel periodo così concitato. Se il Principato non era più messo in discussione nemmeno da un senatore tradizionalista come Galba, non sognava neanche di ripristinare la Repubblica Galba, voleva diventare imperatore così governando insieme al senato, ecco che quindi diventa chiaro da questo periodo che l'esercito diventava invece protagonista. Ogni soldato vedeva nel proprio comandante in capo la possibilità di un miglioramento delle proprie condizioni di vita e il successo dell'armata a cui si sentiva legato anche per spirito di corpo, che era un altro elemento essenziale, cioè il legionario si sentiva appartenente al gruppo inteso come legione. E in effetti, immediatamente dopo la vittoria di Bedriaco, Viteglio riformò le corti pretorie che avevano appoggiato Otone, immettendo nelle fila e nei vertici della guardia pretoriana proprio i legionari e affermando così agli occhi dei soldati la possibilità anche di un accesso per loro al corpo scelte o privilegiato dell'esercito romano. Viteglio era dunque imperatore espressione dell'esercito legionario del Reno. Viteglio commise tuttavia l'errore di concedere troppa libertà in termini di verrazie e bottino alle sue truppe dopo la vittoria di Bedriaco, quindi la pianura padana e quella zona non fu contenta del comportamento delle legioni di Viteglio dopo la battaglia vittoriosa di Bedriaco. Inoltre, un altro errore che commise Viteglio che così gli fece perdere consenso fu la riabilitazione di personaggi legati al passato nerognano e anche qui quindi non fu una scelta politicamente felice. Crebbe pertanto il malcontento presso le truppe di stanza in oriente che fino a quel momento avevano osservato la situazione da spettatrici. Contro tre esponenti quindi che al di là del bacino di consenso politico l'abbiamo visto, Galba, Senato, Otone, Guardia Pretoriana, Viteglio, Esercito del Reno, erano però tutti e tre esponenti dell'ordine senatorio, cioè la loro storia personale, la loro storia familiare era quella di membri appartenenti all'ordine senatorio. Mentre invece il primo luglio del 69, vedete siamo sempre all'interno di questo biegno, il legato di Siria, Gaio, Vicigno, Muciano, il prefetto d'Egitto, Giulio, Alessandro e alcuni dinasti locali, diciamo così sovrani, vassalli dell'impero romano, proclamarono imperatore il generale Tito Flavio Vespasiano, che sarà appunto quello che darà il via alla dinastia dei Flavio. E Vespasiano, a differenza di quegli altri tre, era invece un uomo novus, perché era comandante dell'esercito, operante in Giudea dal 67, e però non aveva molto a che spartire con l'ordine senatorio. Il padre era un sabino di rieti e esercitava la professione di pubblicano, quindi appaltatore delle varie riscossioni che l'impero romano appaltava nelle province. E lui, Tito Flavio, nativo di rieti come il padre, era riuscito a fare carriera grazie alle straordinarie abilità militari e ad entrare in senato, quindi primo membro della sua famiglia, ad entrare in senato sotto Caligolas, quindi siamo fra il 37 e il 41. Quindi da circa un trentennio, potremmo dire. Una volta poi nominato imperatore il primo di Nubio, venne appoggiato anche dalle legioni del Danubio, quelle che prima della battaglia di Bedriaco avevano appoggiato Otone e non Viteglio. E quindi, proprio in odio a Viteglio che aveva vinto quella battaglia, ecco che appoggiano in questo caso Vespasiano, così come viene appoggiato anche da chi? Da quei pretoriani che Viteglio aveva fatto fuori dalla guardia pretoriana per immettervi dei suoi legionati. E così, mentre Vespasiano si trovava in Egitto, da dove poteva controllare i migranari, non so, ma era una posizione strategica, quella di Vespasiano in Oriente, Antonio I, nativo di Tolosa, suo sostenitore e legato di una legione da Debian, la settima legione galbiana, invase l'Italia in nome di Vespasiano. Così, tra il 24 e il 25 di ottobre del 69, Antonio sconfisse nella seconda battaglia di Bedriaco le truppe di Viteglio, quindi nello stesso posto, a sei mesi di distanza, avviene una seconda battaglia di nuovo fra due aspiranti, o meglio, nominati imperatori. Quindi marciò poi su Roma, dove nel dicembre del 69 le ultime truppe di Viteglio vennero sconfitte mentre lui si rifugiava a palazzo. Scrive Tacito che mentre Viteglio appunto si rifugia nel palazzo, la plebe accorse in folla ad assistere alla lotta come se una scena di carneficina, questo è abbastanza significativo anche della società romana dell'epoca, perché è come se una scena di carneficina non fosse ormai null'altro che uno spettacolo offerto per divertirla, quasi una sorta di paragone fra una vera lotta appunto per il potere, una guerra civile, una battaglia civile, una carneficina di fratelli contro fratelli, come cilice Tacito, assimilata di fatto a uno spettacolo gladiatorio nel circo. Questo fa ormai la plebe di Roma, che da un lato potremmo dire e quindi è assuefatta a queste lotte per il potere e ancora ci testimonia il fatto che la plebe fosse come dire, anche indifferente, perché non è che prendeva le parti di uno piuttosto che dell'altro, ma assisteva a quello che accadeva. Viteglio venne quindi tirato fuori dal suo nascondiglio, trascinato seminudo per la città, con un nodo scorsoio attorno al collo, fu poi ricoperto di letame, lungamente torturato e infine ucciso, ci dice Tacito, quasi per un atto di misericordia, quindi ne aveva patite talmente tante, che quasi per atto di misericordioso la fine lo fanno definitivamente fuori. Il senato a questo punto riconosce Vespasiano come imperatore, cui assegnò il consolato del 70, quindi quello dell'anno successivo, insieme al figlio minore Tito e vista la sua assenza, lui ricordiamo si trovava in Egitto, governarono al suo posto in questo momento il fidato legato di Sieria, di cui abbiamo detto prima, Gaio di Cigno-Muciano, e il figlio minore, Domiziano, che sarà poi appunto imperatore, abbiamo nominato in tutta questa parte i tre imperatori della dinastia Flavio, quindi Vespasiano, Tito e Domiziano. A livello del centro del potere, tramontata ormai la preferenza senatoriale per l'elezione del migliore, Tacito insiste su questo punto, perché lui vive in un'epoca in cui questo principio si è affermato, dando via, dando in vita ai regni probabilmente più prosperi, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, quelli del secondo secolo per intenderci, venne affermato invece ancora una volta il principio dinastico, cioè Vespasiano vuole che dopo di lui a regnare sia il figlio Tito, e quindi a reggere un trono imperiale tra circa trent'anni sarebbe stata questa nuova dinastia Flavio, espressione di questo, ovviamente importante, non dell'ordine senatorio romano, ma di estrazione italica e soprattutto di recente nobilitazione. Mazzarino definisce Vespasiano come un imperatore di origine borghese, dobbiamo sempre tenere presente che queste categorie politologiche moderne e soprattutto novecentesche vanno sempre prese appunto con le molle, però suo nonno era stato un centurione, suo padre un pubblicano dell'ordine equestre e la sua scesa al potere era espressione quindi dell'affermazione sociale ed economica delle élite italiche, quindi di nuovo non più solo gli imperatori nati e cresciuti a Roma, ma quantomeno in questo momento siamo con l'origine italica. Vedete come tutto si allarga progressivamente. Dunque, senza considerare i tre imperatori del 68-69, Galba, Autone e Vitegno, Vespasiano era il primo principe che non poteva vantare alcuna parentela diretta o adottiva con Augusto, né aveva mai ricevuto le prerogative del potere imperiale, l'imperium proconsolare, quindi il comando supremo delle forze armate, la tribunicia potestas. Fu pertanto necessario un atto specifico che sancisse la loro attribuzione a Vespasiano e che coinvolgesse almeno in via formale il Senato e il popolo. E siamo quindi la necessità di una sanzione formale del potere a Vespasiano porta una profonda modifica che potremmo definire costituzionale. Prima era, abbiamo detto, il Senato che attribuiva, nominava l'imperatore attribuendogli questi poteri che erano ancora, potremmo dire, di estrazione, quantomeno giuridicamente formale, repubblicale. Viceversa, questa legge, votata e approvata, votata dai comizi e approvata dal Senato tra il dicembre e il febbraio del settanta, incorporava un precedente decreto del Senato ed è nota come l'ex de imperio Vespasiani. Vedete qui a fianco, nelle sale dei musei capitolini di Roma, proprio l'iscrizione con tutta la legge appunto de imperio Vespasiani. Quindi si può vedere tranquillamente andando al museo. Essa cosa faceva? Riconosceva a colui che sarebbe stato il nuovo imperatore, in questo caso appunto Vespasiani, poteri e prerogative sia in lì politica interna che estera. Quindi è la prima legge organica, costituzionale, dell'impero romano che sancisce ufficialmente i poteri dell'imperatore. Esisteva poi, all'interno di questa legge, una clausola cosiddetta discrezionale che riconosceva all'imperatore, ascoltate bene, il diritto di fare ed eseguire tutto ciò che riconosceva utile per lo Stato, in qualsiasi campo dell'attività pubblica e privata, profana e religiosa, affermando dunque ex legge, cioè per legge, il carattere di fatto autocratico del potere imperiale, nel senso che questa clausola discrezionale ci dice che il sovrano, in questo caso l'imperatore, può fare assolutamente ciò che ritiene giusto, quindi ciò che vuole, quindi si colloca al di sopra delle leggi, ed è questa l'essenza di ciò che noi definiamo potere imperiale, cioè l'imperium è colui che comanda indipendentemente dalle leggi. Per una legge del genere, un Luigi XIV, nel XVIII secolo, non so, ci si poteva riconoscere, l'età se moi, lo Stato sono io, le leggi stanno sotto di me, le piego al mio volere, le leggi esistono e io le faccio rispettare, ma nel momento in cui ritengo di fare qualcosa contro, di diverso da ciò che prescrivono le leggi, io posso farlo perché sono il sovrano, ok? Questo è anche ciò che noi definiamo un potere legibus solutus, cioè sciolto dal vincolo delle leggi e come abbiamo già detto tante volte, legibus solutus è la locuzione latina che porta nell'evoluzione della lingua al termine assoluto, questo è legibus solutus. Il solo limite, apparentemente, sancito dalla legge dei imperi vespasiani era rappresentato dalla consuetudine normativa dei principi considerati ufficiali perché emanati dai padri costituzionali, quindi la legge ci dice che ciò che è considerato principio cardine dello Stato romano perché emanato da Augusto, Tiberio e Claudio con l'esclusione ovviamente di Nerone e Caligola doveva essere il limite del potere di Vespasiano e nel momento della provvizione della legge però Vespasiano si trovava ancora ad Alessandria dove gli furono attribuite secondo Tacito suo malgrado perché Vespasiano adesso vedremo che carattere aveva ma sicuramente non era una persona eccentrica non era uno che voleva farsi venerare come un dio gli vennero attribuite in questo porteglio ad alcune guarigioni miracolose che cos'erano? Erano una sorta di propaganda perché dovevano ammantare la figura di Vespasiano di quell'aura sacrale che lo poneva in un rapporto privilegiato con gli dèi perché essenza cardine del potere assoluto in tutta la storia dell'Occidente è questa sorta di investitura da parte degli dèi in questo caso del dio cristiano successivamente pensiamo all'unzione con cui venivano unti nell'abbazia di Saint Denis i futuri re di Francia è proprio la sanzione ufficiale del fatto che dio ha scelto te e come facciamo poi vedete nelle monarchie di epoca moderna di epoca medievale moderna tutto si trasforma in rituale in cerimonia in simbolismo appunto quindi l'unzione ad esempio con l'olio sacro dell'ampolla custodita nell'abbazia di Saint Denis e così via in questo caso questo compito svolto dal cerimoniale questo compito simbolico viene riservato a queste attribuzioni di guarigioni miracolose anche il re di Francia avrà poteri che si definiscono taumaturgici cioè con l'imposizione delle mani sul malato poteva curare e anche questo era effetto del fatto che lui fosse l'unto del signore e in questo caso quindi è la stessa cosa un rapporto privilegiato con gli dèi da cui quindi insieme al senato e al popolo Vespasiano aveva ottenuto la sanzione ufficiale di suo potere perché viceversa Vespasiano è un uomo profondamente diverso da un tipo che da un tipico esponente della classe senatori non abbandonò mai del tutto i suoi più umili costumi né dimenticò le sue origini più modeste periodicamente tornava alla casa dove era nato disprezzava il lusso che era emblema dell'ordine senatorio mangiava come un contadino digiunava una volta al mese era facilmente accessibile al colloquio e aveva un eloquio simile a quello popolare rideva degli scherzi e della satira nei suoi confronti una persona completamente diversa rispetto agli imperatori che abbiamo visto precedentemente il bilancio del bienio di guerra civile però era disastroso sia in termini di morti sia in termini di saccheggi e distruzioni il governo di Vespasiano ebbe quindi come obiettivo primario quello di ripristinare l'ordine di nuovo torniamo al fatto che l'idea stessa di Imperium sia profondamente legata al fatto che questo Imperium questa sovranità deve essere in grado di garantire l'ordine in un determinato territorio a una determinata popolazione la clemenzia la clemenza Vespasiana risparmiò e anzi restituì il ruolo di comando a molti vitelliani la pacificazione degli animi e degli ordini fu segno della nuova politica imperiale e può essere considerata l'inizio di una nuova stagione della storia romana il periodo in cui alla politica della vecchia classe dirigente si sostitui una politica di nuova concordia tra gli ordini ed un intelligente controllo dello stato da parte dell'ordine equestre di estrazione borghese per rinnovare la compagine senatoriale decimata dal bienio di guerra civile Vespasiano fece nuove nomine portando dunque a Roma un migliaio di famiglie dall'Italia e dalle province occidentali inserendole negli ordini senatori ed equestre quindi vedete come Vespasiano questo è una cosa abbastanza tipica quando avviene un cambio di dinastia al potere che quindi elargisce nuove cariche nuove prerogative non è centro del potere stesso ecco che riforma in qualche modo l'elite cioè il suo consenso lo plasma a seconda di quelle che è la sua estrazione in questo caso è un'estrazione italica e potremmo dire sempre con le molle borghese questa nuova aristocrazia secondo alcuni storici risanò la moralità della società romana ancora incontaminata come era in precedenza dall'idea di ozio e dalla ricchezza dal lusso e non così lontana questa nuova aristocrazia ancora dal lavoro della terra è così che ci viene presentato un'aristocrazia quindi più umile più pragmatica non un'aristocrazia che voleva vivere di rendita non un'aristocrazia parassitaria come poteva essere ormai la tradizionale aristocrazia senatoria conscio però dei problemi derivati in passato dalla gestione della burocrazia da parte dei liberti Spasiano così come interno ha voluto fare vitennio ne sostituì quasi tutti i membri cooptando quelli nuovi anch'essi dalle province dall'ordine quindi c'è anche una riforma della burocrazia imperiale che viene diciamo strappata che viene tolta per la maggior parte ai liberti imperiali obiettivo primario quindi dell'amministratore del saggio amministratore Vespasiano era quello di risanare le casse pubbliche che erano in passivo di pensate 400 milioni di sesterzi per raccogliere questa forma dunque Vespasiano adottò anche propri dimenti che potremmo dire impopolari perché aumentò le tasse introdusse nuove tasse celeberrima che lo rende così famoso anche al diciamo al grande pubblico e la tassa sulle latrine sui Vespasiani appunto le vectigale uride tornando poi a imporre le tasse alla Grecia che Nerone aveva tolto con un'operazione finanziariamente disastrosa per le casse dello Stato e vendette poi proprietà pubbliche perché vendette palazzi e altre proprietà imperiali in politica economica avvenne però l'unico provvedimento che potremmo dire in scia con il passato neroniano perché l'avevamo detto quella fondamentale straordinaria e potremmo anche dire intelligentissima politica economica di Nerone del 64 che ridusse la quantità di metallo prezioso presente effettivamente nelle monete e dunque Vespasiano ridusse interiormente la quantità d'argento presente nelle monete nei denari che non erano gli auri che erano le monete d'oro ma i denari che erano le monete d'argento la concessione poi del diritto latino a molte comunità della penisola iberica può essere letta in chiave anche economica dal momento che lo ius lati cioè il diritto latino pur rappresentando solamente una tappa intermedia verso la piena cittadinanza romana concedeva automaticamente la cittadinanza romana a tutti i magistrati e i decurioni locali quindi a tutta la potremmo dire al notabilato locale e quindi comportava già de facto un aumento del gettito fiscale perché il cittadino romano doveva pagare ad esempio il 5% di tassa di successione doveva pagare una tassa sulla liberazione degli schiavi doveva pagare una tassa su altri lasciti testamentari e così via e quindi anche la concessione bisogna dirlo perché questo è un spunto di analisi estremamente contemporaneo laddove l'integrazione pensate anche all'allargamento quello che ci dice Claudio in quel famoso discorso del 48 in cui allarga la cittadinanza romana agli abitanti della Gallia Transpadana e quando vuole far entrare il senato anche i senatori della Gallia Transpadana l'integrazione non è una questione che può essere derubricata come semplicemente umanitaria ma si tratta di portare nuova linfa allo Stato e cos'è la nuova linfa se non tributi tasse risorse economiche con cui lo Stato può così sovvenzionarsi e questo è un'epoca appunto oltretutto di natalità negativa praticamente come quella in cui stiamo vivendo è uno spunto di riflessione assolutamente fondamentale e la storia romana vedete come anche da questo punto di vista può essere molto utile quindi dall'altra parte un altro spunto di analisi di questo provvedimento di allargamento del diritto latino e quindi in parte anche del diritto romano a popolazioni e a comunità della penisola iberica può anche essere inquadrato sulla scorta di quanto già fatto da Claudio nel processo di valorizzazione delle realtà provinciali dell'Occidente e dell'integrazione del loro elite con quelle romane Svetogno accusa Vespasiano di aver accresciuto le entrate imperiali vendendo cariche e incoraggiando i più rapaci amministratori delle province e poi successivamente spogliandoli dei guadagni raccolti quindi un amministratore che potremmo dire spietato si occupò Vespasiano di recuperare le terre dei Magnali anche che rimaste escluse dalle assegnazioni coloniali erano state con il tempo occupate indebitamente Vespasiano dunque negò la validità di tali possedimenti recuperando diritti pubblici su queste terre e successivamente rivendendo queste stesse terre al miglior offerere questo provvedimento unito alla rigida politica fiscale attirò nelle province come l'Italia il malcontento verso l'imperatore che tuttavia non indietreggio di un passo limitandosi a sospendere le rivendicazioni statali in alcune zone dell'Italia dove stavano per scoppiare delle rivolte questa è l'unica concessione che Vespasiano fa perché è anche uno esperto di vita militare quindi sa come disinnescare una possibile rivolta e l'assoluta previnenza che Vespasiano attribuiva all'interesse pubblico è questo che emerge dalla figura di Vespasiano rispetto a un Nerone e ancor più ovviamente a un Calidola ma è la volontà di così svolgere la sua carica nell'interesse pubblico e questo interesse è riscontrabile e anche nell'organizzazione di un primo sistema di educazione pubblica perché ordinò che maestri qualificati di letteratura greca e latina e di retorica fossero pagati dallo Stato quindi educazione pubblica non privata e ricevessero attenzione dopo 20 anni di servizio una pensione quindi guardate l'interesse veramente che Vespasiano ha per portare in alto il pubblico una concezione del pubblico estremamente moderna potremmo dire ricostruì poi i tempi di Giove di Giunone di Minerva che erano stati vittime degli incendi all'epoca degli scontri con i vitelliani edificò un altare della pace e cominciò la costruzione del più famoso edificio della storia di Roma che ogni persona al mondo conosce vale a dire l'amfiteatro appunto Flavio cioè il Colosseo che verrà poi completato però sotto nel regno di suo figlio Tito nello sfortunato anno che vede anche la eruzione del Vesuvio le guerre civili la vengono lasciato degli strascichi nelle province e ancora assente l'Espasiano da Roma a Muciano toccò il compito di sedare una rivolta quella del Batavo parliamo quindi della Germania meridionale Giulio Civile che potremmo dire essere l'ultimo tentativo druidico i druidi erano se qualcuno ha letto Asterix e Obelix così delle figure religiose all'interno delle comunità barbariche è l'ultimo tentativo druidico di rivolta antiromana nell'autunno del 70 una precaria alleanza fra Batavi Germani e Gallicenti venne infatti sconfitta dal generale inviato da Luciano a Castravetera Espasiano e Castravetera che si trova appunto nel sud della Germania Espasiano a questo punto nell'ottobre del 70 rientra a Roma lasciando il figlio Tito a combattere la guerra giudaica questa e che era scoppiata nel 66 quindi sotto Nerone a causa delle vessazioni dei governatori che si erano succeduti in Giudea dopo che era stata riportata a diretta provincia romana nel 6 d.C. e Nerone aveva voluto sedare la rivolta inviando un esercito di ben 60.000 uomini agli ordini proprio di Vespasiano e dopo la sua nomina imperatore Gerusalemme poi venne quindi presa dal figlio Tito venne assediata conquistata incendiata e successivamente rasa al suolo dal figlio Tito e dalla leggendaria decima legione la decima legione Fretensis che appunto si distingue perché poi si stabilisce dopo questa vittoria sugli ruderi di Gerusalemme e si chiama Fretensis appunto perché fa riferimento allo stretto di Messina sulle rive del quale questi legionari erano stati reclutati il 29 agosto del 70 l'esercito romano quindi ufficialmente incendiò e distrusse il tempio di Gerusalemme nel giugno del 71 quindi Vespasiano e Tito poterono celebrare insieme in trionfo a Roma sull'arco di Tito che vedete appunto di fianco al Colosseo si possono ancora vedere scolpiti infatti gli oggetti sacri razziati dal tempio tra cui la menorà quindi abbiamo guardate questa addirittura sembra l'arca dell'alleanza ma non vogliamo scendere in così cose che appunto non hanno alcuna testimonianza però il candelabro invece a sei bracci tipico del sacro per gli ebrei eccolo qua in una processione lungo il trionfo vedete il trionfo quindi il festeggiamento per la vittoria nella guerra giudaica che porta appunto gli oggetti sacri alla religione ebraica le operazioni militari in giudea in realtà proseguirono fino al 73 74 per la permanenza di sacchi di resistenza ebraica di irriducibili sacchi di resistenza ebraica fra cui quella dei sicari che è un termine che nasce appunto qui di origine quindi ebraica che erano asserragliati nella fortezza di Masada di cui vedete qua una fotografia che una volta preso atto dell'inventabile sconfitta quindi dell'assedio a cui non potevano resistere da parte dell'esercito romano si suicidarono in massa e la sottomissione degli ebrei a Roma venne simboleggiata dal fatto che da quel momento in poi le contribuzioni che essi prima versavano al tempio di Gerusalemme il didracmon come si chiamava sarebbero invece spettate al tempio di Giove Capitolino venne quindi istituito il fiscus iudaicus che ovviamente per un ebreo era una delle cose più sacrileghe che potessero capitare cioè invece di versare il tributo al tempio del Dio di Israele veniva versato al tempio di Giove Capitolino il bottino razziato di guerra judaica fu utilizzato dai Flavi per finanziare un ampio programma di rinnovamento edilizio di Roma a cominciare dalla demolizione della Domus Aura di Nerone che era esplosione architettonica di un passato tirannico e che venne sostituita proprio in parte della Domus Aura perché era più grande del Colosseo stesso ma parte della Domus Aura quindi soprattutto lo stagno di casa potremmo dire di Nerone venne appunto sostituito con il Colosseo la rivolta poi di Giulio Felice però indusse Vespasiano a creare nell'area del Reno del Danubio questo è un altro comodimento straordinariamente importante di Vespasiano nell'area del Reno del Danubio una linea continua di difesa limes quello che da questo momento iniziamo a chiamare limes cioè il confine romano il confine naturale dei due fiumi del Reno del Danubio che veniva rafforzato e fortificato con una serie di presidi artificiali per dire fortezze muraglioni steccati terrapieni e fossati perché chi di voi ha presente la geografia mittele europea quindi conosce il corso del Danubio che va verso nord verso il Mar Baltico il Mar del Nord da questa parte invece il Danubio va nel Mar Nero di conseguenza si trattava rappresentando essi i confini naturali straordinariamente all'uopo per la difesa di un impero ecco che si trattava di fortificare soprattutto la zona fra i due fiumi perché lì la fortificazione mancava e dunque si inizia questa fortificazione che poi verrà estesa a coprire l'intero territorio l'intero corso anche dei due fiumi e quindi nel 71 poi Vespasiano aveva voluto affermare energicamente l'opzione del principio dinastico abbiamo accennato precedentemente dal momento che conferì la tribunicia potestas al figlio Tito e in titolo di Cesare all'altro figlio vale a dire Domiziano insieme all'integrazione del senato con gli esponenti provinciali questo provvedimento però gli alienò le simpatie del tradizionale ordine senatorio che l'abbiamo detto sarebbe sempre stato per il principio dell'adozione del migliore per la successione imperiale e il leader del senato Envidio Prisco fu prima allontanato e successivamente eliminato nel 75 e questo fu un gesto che stando a quanto ci dice Svetoglio Vespasiano rimpianse perché era un gesto ovviamente l'eliminazione di un oppositore un gesto che andava completamente contro quella che era stata la clemenza con cui era stato caratterizzato voleva caratterizzare il proprio governo tuttavia nonostante questo sia l'unico caso che ci viene trasmesso di eliminazione di un oppositore da parte di Vespasiano un altro provvedimento che non gli fa onore che ci testimonia comunque di un personaggio che si poteva concedere più libertà perché era alieno dalle eccentricità di imperatori come Nerone e come Caligola ma era anche alieno agli intrighi di palazzo che avevano così distrutto di fatto la fama e la popolarità di Tiberi di Claudio però fa un provvedimento di censura quindi anche lui è attento all'opposizione al regime e se mettiamo questo con quella clausola discrezionale dell'ex dell'imperio Vespasiano vediamo che sì Vespasiano è un buon imperatore ma non un imperatore che potremmo dire non autocratico comunque autocrator e quindi bandì da Roma i filosofi e gli astrologi banditi dalla città quindi esiliati dalla città perché intorno a queste dottrine soprattutto la dottrina stoica pensiamo di nuovo a Seneca si coagulava il dissenso antiimperiale erano ormai dottrine che erano dominanti fra i senatori tuttavia il ricordo delle recenti guerre civili del bienio 68-69 giocò un ruolo superiore alla riottosità del senato e quando nel giugno del 79 Vespasiano morì la successione del figlio Tito avvenne senza trauli quindi potremmo dire che Vespasiano era riuscito ad affermare il principio dinastico e si conclude qui la lezione di oggi mentre la prossima sarà dedicata al governo dei figli di Vespasiano Tito e Domiziano attenzione perché sotto Tito parleremo anche della calamità per eccellenza che ha colpito l'impero romano vale a dire dell'eruzione del Vesuvio vi ricordo che per rimanere aggiornati con tutte le prossime uscite potete iscrivervi al canale ciao a tutti alla prossima ciao a tutti